Ciao ragazzi, rieccomi qua. Allora, inizio questo video ringraziando tantissimo la Lea e le mando un bacione perché mi ha attaccata nel video l'importanza di essere creativi. La ringrazio in maniera particolare perché io sono una creativa e quindi è proprio il mio tag questo, quindi insomma, grazie mille. Allora, ritorno con la mia agentina, fantastica, e vado con la prima domanda. Che cos'è per te la creatività? La posso riassumere con un esempio, ovvero avere un blocco di creta davanti e immaginare già quello che ci si può ricavare. E insomma, vedere un paesaggio e immaginarla in una foto, vedere una scena e immaginarla in una foto, guardare i tratti di viso e immaginarli su carta. Vedere un interno e immaginarlo già come arretarlo, ecco, in generale è l'immaginazione, il potere che ha la nostra immaginazione e ognuno di noi può averla in ambiti differenti, la cucina, appunto, il disegno piuttosto che l'arretamento, piuttosto che, insomma, la creatività. Non ha limiti di argomenti, può essere utilizzato ovunque. E' un po', diciamo, non riuscire a fermare l'immaginazione, ecco, penso che sia quello. Riuscire a vedere già il poi. Poi, da 1 a 10 quanto ritieni di essere creativa? Allora, qui passerò per arrogante, magari presuntuosa, e non lo sono veramente, anzi, se posso tagliarmi le gambe da sola, lo faccio molto, molto volentieri, nel senso che, cioè, volentieri, non perdo occasione per mazzolarmi, ecco, perché sono molto autocritica. Però in quanto a creatività credo di meritarmi un 10, perché riesco a creare tal niente e non posso vivere senza creare, è proprio quello che mi dà ossigeno. E quindi, insomma, mi sento portata molto. Poi, la tua creatività in quale campo credi si esprima meglio? Sicuramente in quello artistico, quindi il disegno. Non solo disegno, in generale, lo incanalo di più verso il disegno di moda, ecco, quello è dove sono un po' più, diciamo, il mio tema, un po' è il mio campo. Oltre a quello, credo molto, anche nella fotografia, credo di essere molto portata. Poi, il tuo lavoro lo vorresti svolgere creativo? Assolutamente sì. Quello che facevo prima, ve l'ho accennato nel videotag, ovvero la stilista, essendo un lavoro appunto sempre aziendale, non era un lavoro creativo, era poco creativo. Perché comunque, si sa tutto ciò che è commerciale, comunque ha delle direttive, ha 2500 paletti e, insomma, non dà molto spazio alla creatività. Invece, facendo un insegnante, sì, assolutamente, in più, la mia idea, che è quella di diventare un insegnante di disegno, allora lì sarebbe proprio il mio sogno, ecco. Quindi, il lavoro più creativo, dico sì, non ce n'è. E poi, sì, sicuramente facendo dei lavoretti di grafica o di fotografia, anche lì, però sono più passioni, ecco, perché non è proprio un lavoro, sono lavoretti, un po' così, ecco. Però sì, assolutamente creativo, perché impazzirei, penso, al contrario. Poi, quanto tempo dedichi alle attività creative? Più possibile, quanto più riesco, ecco, in generale, per tutto ciò che può essere creativo, dal, appunto, disegnare, dipingere, ristrutturare un mobile, fare un quadro, creare un abito, ecco, insomma. Trovo sempre qualcosa da fare di creativo, quindi, veramente è il più possibile, ecco, anche se non andare in giro a fotografare, insomma. Cerco di incanalare sempre tutto quello che faccio verso un aspetto creativo, anche la cucina, per dire, vado molto all'estetica e a, insomma, la cromaticità dei piatti, cioè, cistotti, ecco. Quindi, YouTube aiuta la tua creatività? Certo che sì, perché è simulante, molto. E' un modo per incanalare le proprie idee, le proprie abilità, le proprie capacità, quindi, tutto quello che ci stimola, dà sicuramente spazio alla creatività e aiuta la nostra creatività. Quindi è sempre positivo. Se sei di cattivo umore, dedicarti ad un'attività creativa, aiuta. Dipende. Di solito sono molto più creativa quando sono felice. Di cattivo umore, personalmente, tendo a chiudermi. Però, se in qualche modo devo fare comunque qualcosa per lavoro, per altro, dedicarmi poi, essere spinta a dedicarmi a queste attività, mi aiuta tantissimo perché poi mi concentro su quello che faccio. E' come se ci fosse là, quando mi danno il là, io poi non mi fermo e sono una macchinetta e essere capace di stare ore, 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 dietro un qualcosa di creativo. Quindi si aiuta senza ombra di dubbio. Poi, quando hai dei problemi da risolvere, pensi a delle soluzioni creative per, appunto, risolverli. Sì e no, ovvero, sono una persona molto razionale, nonostante tutto, per quanto riguarda i problemi, allo stesso tempo però ho una parte di creatività anche qui, che mi fa molto spesso immaginare, ma quasi sempre rimane comunque una sorta di film. E' un problema mentale, ecco, però sì, sono un po' la Ellie McBeal, nel senso che mi faccio sempre dei film, delle vignette in testa di come potrebbe andare, di come cosa potrei fare per risolvere, eccetera. Però diciamo che tento però ad essere molto pragmatica nella risoluzione dei problemi e voglio risolvere il più in fretta possibile. Quindi sì, non viaggia tanto sulle nuvole. Secondo te, creativi, si nasce o si diventa? Si nasce. Si nasce perché... Perché tutti quanti abbiamo un'indole, secondo me. Io fin da piccola ero creativa, desideravo, avevo più o meno i sogni, non sono mai cambiati, ecco. E sono sempre rimasta molto artistica, sulla strada artistica. E ovviamente crescendo si può ampliare, come può diminuire, come si possono imboccare altre strade. Però io penso che tutti noi abbiamo un'indole, un'indole innata. E c'è chi è più scientifico, chi è più artistico. Io penso che non potrei mai, non sarei mai potuta finire in un capo scientifico perché non è il mio. Poi però c'è da dire che molte persone invece che pensano di essere totalmente negate per tutto ciò che è artistico e creativo, se sono eccitati, se aiutati, con esercizio possono sicuramente migliorare. E magari trovare anche una valvola di sfogo e anche, insomma, capire che non sono per così negati. Però, come tutto quanto, credo che appunto ci sia una valvola dentro che si scatena fin dalla nascita, che sia o faccia un po' parte del nostro DNA, ecco. Allora, il tag è finito. C'erano dieci domande. Io spero tanto che vi sia piaciuto. E fatemi un po' sapere nei commenti se questo genere vi piace, se devo archiviare questo genere di video e non farli mai più. Oppure se invece non mi dispiacciono. E niente, appunto, fatemelo sapere o con un pollicino in su o con un commento, così io, insomma, capisco un po' che cosa fare. Se vi piacciono dei video, appunto, un po' chiacchiericci, così, fatemelo sapere qua sotto. Io sono ben lieta di farli. E anche per oggi vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, per essere sempre dei tesori. E vi mando un bacione. Ciao ragazzi!